Vodafone ha lanciato Vodafone Smart 2, uno smartphone Android di fascia bassa che qui vediamo nella colorazione base bianca. Questo telefono è a marchio Vodafone ma viene realizzato da Alcatel, dimonta un sistema operativo Android 2.3 come possiamo anche vedere dalle schermate e un display da 3,2 pollici con 264.000 colori. Al suo interno abbiamo anche un processore da 832 MHz con 512 MB di RAM che come possiamo vedere rendono anche molto fluide le transizioni tra le varie schermate e il scorrimento nella lista delle applicazioni. Ovviamente si notano anche le applicazioni native di Vodafone, ovviamente questo è un telefono venduto con l'operatore Vodafone, si può notare il calcio per seguire le dirette del campionato italiano anche in alta definizione e il My190 ad esempio per accedere ai propri dati personali relativi alla ricaricabile o all'abbonamento. La memoria del telefono viene gestita su schede micro SD, ne è inclusa una da 2 GB nella confezione, mentre caratteristica molto interessante di questo telefono è la possibilità di cambiare la cover posteriore per cambiare completamente colore al telefono. Qui vediamo la versione bianca ma ne esistono anche di altri colori che possono essere acquistate a parte e si può così personalizzare completamente l'aspetto del telefono con una piccola spesa. Smart 2 di Vodafone è già disponibile in tutti i migliori negozi e in abbonamento per i piani tarifari Vodafone.